Secondo le grandi organizzazioni sanitarie internazionali si parla di poliabortività o di aborti ripetuti quando si verifichano più di tre aborti consecutivi. In una logica clinica più evoluta, dove il benessere della persona viene anteposto a considerazioni essenzialmente economiche, è meglio invece che già al secondo aborto si cerchi una diagnosi. Ci sono cause di aborto di tipo genetico, altre di tipo anatomico, ovvero di anomalie di forma dell'utero, altre ancora legate a problematiche della coagulazione. O di tipo endocrino, e così via dicendo. Si tratta quindi di un panorama ampio e variegato e non sempre è possibile, una volta formulata una diagnosi, trovare un rimedio efficace. Ciò non di meno, soprattutto se non sei giovanissima, conviene impegnarsi precocemente alle ricerche di cause di aborto ripetuto, poiché anche il trascurere degli anni gioca a tuo sfavore.